dell'acqua santa posso dirvi il luogo più caro a me è più significativo dell'acqua santa per me la grotta della madonna dell'acqua santa una grotta che si trova all'interno del molo in cui si narra di nel ritrovamento del 1022 di un un'immagine della madonna ritenuta miracolosa dai pescatori del luogo su questa grotta sgorgava e sgorga tuttora una sorgente di acqua miracolosa da cui deriva il nome dell'acqua santa quest'acqua ritenuta miracolosa perché guariva si narra varie malattie ne furono consapevoli di questo tesoro i fratelli pandolfo che nei primi del 1800 crearono io uno stabilimento termale vero e proprio all'avanguardia a quei tempi e fu la fortuna della borgata che si arricchi di tante altre persone che vennero ad abitare qui